Alla maggioranza si chiedeva una risposta seria e concreta rispetto alle preoccupazioni espresse dai territori, quello bellunese e quello trentino, contrarie alla realizzazione della diga del Vanoi. Il voto finale di martedì pomeriggio a Palazzo Ferrofini ha lasciato estere fatti i consiglieri di opposizione. Non si è trattato di un mero voto contro istanze politiche espresse da partiti avversi, quanto della negazione di parte della maggioranza delle fondate critiche espresse dal territorio, si legge nel comunicato. Il dibattito, afferma il segretario del PD di Belluno, Alessandro Delbianco, merita di essere proiettato ovunque. La maggioranza si è schierata a favore del progetto che la Regione ha inserito al primo posto nell'elenco delle opere prioritarie da finanziare con i fondi PNRR. Un progetto importante per la pianura sia per la sicurezza idraulica che per la disponibilità idrica, ha affermato la consigliera bellunese del Carroccio, Silvia Cessaro. Molto spesso quello che si percepisce non è la realtà dei fatti, ovvero non si è mai parlato di idroelettrico e questo è abbastanza evidente. Devo dire che la stampa in questo non ha aiutato moltissimo perché c'è stata una diffusione di notizie spesso sbagliate, errate, molto amplificate e ovvio che in periodo di campagna elettorale la cosa faccia comodo a molti. La stampa, prima ancora che le istanze dei territori, oltre che delle istituzioni, provincia autonoma di Trento e provincia di Belluno, responsabile della disinformazione sul tema della diga del Vanoi. E allora ricordiamole queste presunte fake news senza tema di smentita. Il progetto che viene riproposto da almeno un secolo, la prima volta nel 1922 e la seconda nel 1955. Allora un unico committente, la Sade, lo stesso della diga del Vajonte e di seguito fino ad oggi con il sostegno della Regione Veneto che ha posto il progetto collegato al contrasto della siccità del Consorzio Brenta. Una diga alta a 116 metri per contenere un lago artificiale da 33 milioni di metri cubi d'acqua, che sulla carta presenta rischi di gran lunga superiori ai benefici e che in un secolo tecnicamente ha solo incassato esiti di indagini che ne hanno bloccato la realizzazione per irrisolvibili problemi geologici. Le frane, anche recenti nelle zone limitrofe all'invaso, parlano da sole. Cestaro, favorevole, ha però chiesto che d'ora in avanti tutti i passaggi avvengano nella massima trasparenza e condivisione. Condizioni mancate in questi anni nei confronti di un progetto calato dall'alto, secondo una logica contraria all'autogoverno dei territori. Frattanto la provincia ha ottenuto l'ok del Ministero dell'Agricoltura alla richiesta di accesso agli atti, rigettando l'opposizione presentata dal Consorzio Brenta. Dall'esame della documentazione, le cartelle recapitate lo scorso 28 marzo serviranno alla provincia per decidere che strada intraprendere, ferma restando la contrarietà all'opera espressa con un ordine del giorno approvato lo scorso ottobre.